Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Sicuramente sentirete un wuuuuh molto forte di sottofondo, mi scusa anticipatamente ve lo dico subito Però ragazzi qui nel soppalco non ci si sta affatto a troppo caldo e ho il ventilatore lì a 4 metri perché se no sciolgo Oggi torniamo a parlare di stampanti 3D perché vi voglio annunciare la mia collaborazione con la Lotmax che vedete qui dietro di me Questa bella stampante LCD a resina che ci è arrivata da un paio di giorni e l'abbiamo messa direttamente accanto all'Anycubic Photon Questa qui è la Lotmax CH10 ovviamente stampante a resina che è appena uscita sul mercato da circa una settimanetta Ovviamente insieme ci hanno mandato anche una piccola resina loro di colore giallo 250 ml per provarla ma ve ne parlo a breve dopo la sigla Intanto colgo l'occasione per ringraziarle da morire perché gli ho scritto una mail che mi sarebbe interessato provare le loro stampanti Visto che anche della Lotmax ne ho sempre sentito parlare molto bene e appunto mi ero convinta a provarla anche per avere un riscontro con la Photon Che sono poi ve lo diremo in un video dedicato a parte non in questo faremo un video confronto appunto per farvi vedere i pro e i contro di tutte e due Perché comunque sono due stampanti molto simili però ovviamente questa qui è più nuova di almeno un anno rispetto alla Photon quindi ovviamente c'ha delle cose in più Come detto è una stampante LCD è una stampante a resina è una stampante che ha un piatto di dovrebbe essere 13x6.8 quasi 7 di larghezza E di altezza andiamo sempre sui soliti 14 e mezzo 15 che poi comunque non li non li sfrutti mai tutti perché il piatto andando a toccare in cima verso il soffitto diciamo non li sfrutti mai del tutto Soprattutto con i supporti però sui 14 cm ci arrivi tranquillamente ovvio se la figura c'entra anche in larghezza Ha un piatto con 4 viti ha un piatto ovviamente ora proprio avanti nel video vi faccio vedere anche un pochino un mini tutorial so come prepararle tutto quanto più nel dettaglio Ha un piatto fatto esagonale a cappettina quindi vi aiuterà molto nel colare alla resina al fine della stampa però alla fin fine vi potete tranquillamente andare a rivedere il vecchio video della Photon perché sono molto simili Ha il pulsante accensione sul fronte ha uno schermettino LCD di 3,5 pollici sicché è una bella macchinetta e quello che mi è piaciuto da subito è questa maniglia Sicuramente ci fai anche più presa rispetto a una cosina così tonda più piccola per aprirla e la chiusura poi al solito è bella ermetica quindi Devo dire la verità non fa nemmeno tanto rumore e tanto puzzo quindi è veramente veramente una bella macchina Comunque vi faccio vedere un pochino più di specifiche e ve la faccio vedere anche a livello di setup come fare la regolazione del piatto vi faccio vedere un po' di cosine ci vediamo a breve Qui davanti ha una bella maniglia tra l'altro bella grande e con questa si va a sollevare il coperchio Qui davanti ha il pulsante d'accensione tra l'altro molto comodo e messo sul fronte e qui davanti lo schermettino che ora poi andremo a levare la pellicola ovviamente che la stiamo montando Una cosa tra l'altro che mi piace molto è che i vetri questi qui sono arancioni e secondo me tengono anche decisamente più i raggi ultravioletti Quindi sia all'interno della macchina che non escono quando al lavoro ma soprattutto raggiuntere i vetri del sole per cercare ecco se la lasciate vicino a fonti di luce che non vi vada a rovinare la stampa Poi c'è il piatto esagonale lo vedete qui fatta a cappettina tra l'altro tutta quanta la struttura è in ferro è tutto quanto sia il piatto che la struttura che lo sorregge sopra E qui c'è il serbatoio in alluminio con due bulloncini che lo tengono ben fissato ai lati Ora si parte con l'accensione Vediamo un pochino Ok vedete il logo della Lotmax qui davanti E fa un suono d'accensione il menu è anche abbastanza classico e vedete ci sono tool, system e print per andare a fare le stampe Per la calibrazione come sempre andate a mettere un fogliettino normale di carta E poi andate a settare che il piatto dovrà scendere fino a che non si andrà ad adagiare sul foglio e come sempre ci deve rimanere leggerissimamente un pochino di gioco Dovete andare ad allentare queste quattro viti Tutte e quattro che ovviamente il piatto si muove un pochino e poi lo riandate a mettere laggiù nella macchina e siete pronti per fare la calibrazione Ovviamente prima stringetelo In cima deve essere ben stretto però al lato le viti devono essere abbastanza allentate per avere appunto un pochino di gioco Ok si va a cliccare e questo come vedete scende e si va ad adagiare sul foglio di carta E da qui in poi inizia la calibrazione Si preme questo pulsante qui, set Z Si dà la conferma Successivamente si va a mettere il serbatoio Però per prima cosa magari con un pochino di vetril andate a pulire sotto il fep e andate a levare un po' di polvere Perché anche la polvere è causa di stampe fallite Quindi si va a dare una pulitina e anche poi sul piano di lavoro laggiù Si inserisce il serbatoio, si fa scorrere piano piano e poi si va a fissare con le due vite ai lati Anche questo deve essere ben fermo Una di qua e l'altra di là Questa qui è la resina quella gialla che ci hanno fornito 250 ml direttamente la Lotmax Agitatela sempre bene, mettetevi sempre i guanti e mascherina quando toccate queste cose Perché ragazzi veramente è tossica da morire E si va a versare all'interno Versatecene abbastanza e poi il contenuto che vi mandano sono 250 ml Non vi dico buttate, sembra di fare una torta, un dolce Non ce la buttate tutta ma perlomeno metà flaconcino sì Tanto poi comunque la rimetterete a posto Più o meno il livello deve essere questo qui Poi ovvio dipende dalla figura che è andata a stampare La porta USB è qui sul lato destro Si va a mettere la chiavetta USB all'interno con tutti quanti i progetti che ci sono caricati E poi per la stampa si va a cliccare su print Poi là sotto ci fa vedere i progetti che sono caricati in memoria Se ne sceglie uno che in questo caso qui è la targhettina che mia moglie mi ha fatto per il canale Beh tra l'altro bellina da morire E lì si dà l'avvio Come vedete c'è un tempo Ci dà il tempo di stampa E sopra ci fa vedere la percentuale Le ore di stampa e tutto quanto il resto con il nome del file La stampa è finita Ha preso, si vede male però più o meno sui 49 minuti E andiamo ad aprire Si va ovviamente a fermare Si apre E vediamo se è venuta la stampa Lo scopriremo girando il piatto Ragazzi adesso non si vede niente perché è pieno a zeppo di resina E tra l'altro anche la luce non va assolutamente bene Ecco forse così si vedeva un pochino di più perché non ci picchiava la luce Comunque è venuta fuori la stampa alla prima Calibrata velocemente Arretta, attaccata al piatto Con la loro resina gialla Quella che ci danno appunto come prova Quindi direi che è passato assolutamente a pieni voti Come vi si disse in un vecchio video Noi il travaso lo facciamo così Spero che si veda Giusto, sbagliato È quello che ci riesce meglio E ci viene anche meglio Non si spreca resina E non si formano goccioline a giro Quindi scusate l'illuminazione ragazzi che fa schifo Comunque come vedete È tutto quanto fatto a siringa Per concludere La Lotmax Hanno fatto per ora Soprattutto in un kickstarter Che ha avuto un grandissimo successo Stampante a filamento FDM E questa qui è la loro primissima stampante in resina Hanno provato ovviamente Per vedere se riuscivano a farne a chiudere Ci sono riusciti benissimo È una stampante che lavora bene E poi il costo ragazzi si va sempre sul costo di queste stampanti Che esagerando poi spende Dai 220 ai 250 euro Quindi è una stampante economica Assolutamente alla portata di tutti Questa è la classica stampante Per tutti gli amatori Come me e mia moglie Del resto che vogliono fare lavori piccoli E molto detto piccoli Oddio se arrivi a 10 centimetri 14 sono anche grandicelli Comunque molto dettagliati E soprattutto in resina Quindi per persone che vogliono stamparsi micro scenari Oppure vogliono stamparsi pedine Scala 28-30 millilitri O anche direttamente Mezzi busti O comunque action figure Questa va assolutamente benissimo E mi sento di consigliarla a tutti quanti Tra l'altro Ragazzi è molto user friendly Perché vi arrivano Io penso come tutte le stampante a resina A parte quelle industriali Vi arriva già preassemblata Direttamente E voi dovete semplicemente Andare ad avvitare il piatto Mettere ovviamente la vaschetta sotto Bloccarla E poi fare Come avete visto nel corso del video Fare direttamente la calibrazione Quindi non ci vuole nemmeno chissà quanta La fin fine Non vi dico un plug and play Ma ci manca poco Cioè l'attaccate Piciate il tasto Iniziate Tra l'altro Abbiamo fatto partire la stampa Ci diceva un orario Invece poi ci ha messo anche leggermente meno Quindi anche a livello di tempi Li rispetta molto bene E devo dire che anche come prima stampa L'avete visto Non ha fallito né niente Quindi c'è andata anche di lusso Riuscita già la prima stampa E' anche buono Forse era anche buona la loro resina Se volete poi sapere Cosa c'era anche nel pacco Come kit e tutto quanto Aspettate qualche giorno Che facciamo il video con Perison E vi faremo vedere anche tutte le cose I gadget Il kit Diciamo Mettiamola così Che c'era dentro La spatolina Insomma le solite cose I fep di ricambio e quant'altro E i particolari in più Che non abbiamo detto in questo video Comunque come voto A una stampante del genere E metto le mani avanti Ragazzi sono l'ultimo arrivato Ho provato soltanto La Photon a resina per ora Però facendo un paragone Ma anche vedendo Come lavora Io direi assolutamente Che un 9 su 10 Se lo merita Ed è una stampante Ragazzi Veramente Veramente Per tutti Per chi vuole fare anche cose Un pochino più avanzate Ma soprattutto per quelli Come noi Le prime armi Veramente Ora Se fatto un po' di esperienza Un mese con quest'altra Ma se vi dico Attivata Messa la chiavetta La stampa E fatta partire la stampa E finita E staccata Cioè è la cosa più facile del mondo E deve essere anche così Giustamente Quindi Un 9 su 10 Meritatissimo E ringrazio ancora una volta La Lotmax Con cui ho stretto una collaborazione Per avermi fornito Questa stampante LCD Grazie davvero di cuore E ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Con un commento Ciao alla prossima Ciao